Ho affermato di preferire iOS ad Android. Ho ricevuto una valanga di insulti. Un hater mi ha chiesto perché non rispondo mai ai commenti. Cose di computer è rivolto soprattutto alle persone che hanno scarsa dimestichezza con la tecnologia. Le mie spiegazioni sono semplici, chiare e comprensibili da tutti. Lo dicono le recensioni delle persone che mi seguono. Il 99% dei commenti iniziano tutti allo stesso modo. Poche idee ben confuse, non è esattamente così. Hai detto un mare di bagianate. Se rispondo dicendo di essere laureato in informatica, mi viene risposto che il mondo è pieno di laureati incompetenti. Stessa cosa quando dico di aver lavorato al CERN. Se prova ad argomentare, l'hater comincia ad insultare. Perché non ha voglia di confrontarsi, vuole solo sfogare alla sua rabbia repressa. I commenti hanno il solo scopo di provocare una reazione. E io ho smesso di abboccare. Se ricevi dei commenti di odio, ignorali. I miei hater dovrei solo ringraziarli. Ogni commento che ricevo crea engagement. Il che nel mio caso si traduce nel raggiungimento di maggiori potenziali clienti e quindi alla fine in vendite.